Io vedo un peggioramento, le dico questo perché in realtà bisogna far tornare a rispettare le regole, non soltanto il presidio del territorio manca e manca sempre di più, ma soprattutto quei delinquenti che vengono presi due giorni dopo sono liberi di circolare su territorio e continuare a commettere i crimini, il reporto dei casi hanno preso in Friuli, regione e area da quale provengo, lo scorso anno due rumeni con 100 mila Euro di rifurtiva, due giorni dopo erano liberi e uno di questi è stato preso che ricommetteva un altro reato, vengono fatti dei provvedimenti legislativi dove si dice se uno viene preso perché spaccia droga, se è piccolo spaccio non va più in galera, hanno dato a Modela gli arresti domiciliari a due delinquenti tunisini in un parco pubblico.